Il senso interpretativo In questa iniziativa Laddove uno scrittore Che non è un attore Racconta di un monumento Adotta in qualche modo Un sito della città E inventa un modo Per trasmetterlo in maniera diversa Per imprimerlo di più Forse nei cuori Nell'animo della gente Quindi credo che sia Un'iniziativa estremamente interessante E anche innovativa Molto innovativa Anche io ho il benvenuto In questa chiesa nobilissima E antica Che volle fortemente Ladislao, re di Ingeria Lo vediamo qui Ecco, assiso in trono Ladislao rilevò Una piccola chiesa Cappella Di origine conventuale Agostiniana E incaricò L'architetto San Felice E lo scultore Andrea Novi Di arricchirla E di farne quello Che nelle sue intenzioni Sarebbe dovuto diventare Il Pantheon degli Angiocchi Lo fece su una strada Che in quel momento Altro non era Che la discarica di Napoli Qui si bruciavano i rifiuti Non erano rifiuti tossici Come quelli di oggi Però vi lascio immaginare Che cosa poteva essere Questa via Piena di tos Di sporcizia Che puzzo Era tigua fuoria Fuori mura Era un sito di Malattie In una Napoli Che era da poco uscita Dalla terribile peste Che aveva decimato La popolazione Ladislao Da Da lontano Da secoli Da una grande lezione Di civiltà Già allora aveva capito Che il mondo si salva Con la bellezza E questa chiesa È bella E Però l'oggetto Del mio racconto Come diceva Marco Non è Ecco volevo parlarvi Della chiesa Volevo parlare brevemente Come e perché Nacque la chiesa Di San Giovanni Ma l'oggetto Del mio racconto In realtà È Giovanna Giovanna Seconda D'Angio Detta la pazza O meglio Detta la pazza Dal momento in cui morì Perché prima di morire Giovanna In realtà Dal popolo Era chiamata Giovannetta E molto Molto amata Chi era Giovanna Ecco la vedete Accanto al re Ladislao In questa scultura Di Di Nofri Che in realtà Non le rende Molta giustizia È come la foto Di un Fotografo Poco Poco Solerte Perché La vediamo Già pesantita Col doppio mento Laddove invece Le cronache Ce la descrivano Bella Anche se Lei In effetti Divenne Regina di Napoli A ben 42 anni Nel 1400 Signori 42 anni Erano tanti Una donna Era vecchia Lei era già vedova Di Guglielmo d'Austria E non aveva figli Di lei si è detto di tutto Quello Che nell'immaginario Di chi vive a Napoli Di chi conosce la sua storia È terribile La propaganda Fatta da chi le successe Cioè dal Cervi Minimici Degli Angiò Fu terribile Nei confronti Di Giovanna Donna Cattiva Cattiva Regina Ma la femmina Assassina Di tutto Si è detto di Giovanna Una donna Le cui nequizie Sono così terribili Da non poter essere Nemmeno ripetute In questa sede Assassina Di un numero Indefinito Di giovani Che lei Seduceva E poi E poi Buttava Nel Fossato Del maschio Angioino Dove erano Divorati Da un fantomatico Coccodrillo Un coccodrillo Che non lasciava Di queste centinaia Di giovani Niente Non si è mai trovata Una prova Di questi delitti Di Giovanna Non un ossicino Ma il crimine Più terribile Di cui viene incriminata Questa donna È quello Di aver assassinato L'unico uomo Che ella veramente Abbia amato Giovanni Il principe Giovanni Caracciolo del sole Io Mi chiedo scuse In anticipo Delle afasie Delle incertezze Del mio racconto Io sono una scrittrice Non sono un'attrice Mi confronto Ogni giorno Con la pagina bianca O al massimo Con lo schermo Abbacinante Del computer E con un lettore ideale Invece Avere una platea È cosa ben diversa Ma vi lancio subito Una piccola provocazione Letteraria Vorrei che in questo momento Da pubblico Da platea Voi vi trasformaste In giurati A voi Io vorrei Affidare il compito Di giudicare Giovanna In quella che Per me sarà Una piccola Maldestra mappa Impassionata Arvinga In difesa di questa donna Il potere delle donne Quando ce l'hanno avuto È sempre stato In qualche modo O stato O distrutto Dagli uomini Doveva essere Il panteon Degli angiò La chiesa di San Giovanni A Carbonara Ma qui Le ceneri di Giovanna Non ci sono Ci sono E quindi Non ci fu figlio Che per affetto Pietà O orgoglio Difendesse mai La sua memoria Che fu addirittura Confusa E viene oggi Confusa Con quella di Giovanna Prima Che con lei Sì era una zia Ma non Insomma Lei viene dopo due generazioni Addirittura Ma chi era Giovanna Giovanna Ha due anni Un'età In cui una donna Allora Si metteva in pace Con le sue cose Adislao La fa regina Di Napoli Io vi chiedo Di immaginarvela Questa donna Che Di bellezza matura Perviene ad una Napoli Che è un solo angolo retto Di azzurro smagliante Tramare il cielo